Sono con il professor Servio Marchisio, ordinario di diritto internazionale Space Law presso Sapienza e presidente dell'ACSL. Buongiorno professore e grazie innanzitutto per questa intervista. Allora, dal 1992 l'European Center for Space Law organizza questo Summer Course on Space Law and Policy in collaborazione con un'università ospitante e quest'anno è l'anno della Sapienza, in occasione della 26esima edizione. Abbiamo assistito durante l'inaugurazione, il 4 settembre, all'intervento del magnifico rettore Eugenio Gaudio che è venuto e ha portato personalmente i suoi saluti a manifestazione comunque di un evento di grande spessore. Quanto è importante, ecco questa è la mia domanda, per un'università come la Sapienza avere un Summer Course su questi temi? Dunque, anzitutto vorrei dire che la Sapienza da anni persegue l'obiettivo della internazionalizzazione e quindi da anni sta cercando di organizzare dei Summer Courses qui in Sapienza. Anzi, fino all'anno scorso aveva anche promosso dei bandi per cofinanziare queste attività. Purtroppo quest'anno non è stato possibile, ma siamo intervenuti con questa partnership con l'European Center for Space Law e quindi il rettore è stato ben contento di dare tutto il suo appoggio e supporto a un'iniziativa che secondo lui e secondo noi rientra nella linea della internazionalizzazione perché da un lato porta studenti della Sapienza a entrare in un contesto di colleghi di altre università europee, di 29 università, 22 paesi, quindi un contesto tipicamente internazionale e a confrontarsi su temi come quelli del diritto e della politica spaziale che sono indubbiamente dei temi considerati un po' eccentrici, ecco non al centro della formazione del giurista o del politologo. Però ricordiamoci che già di Norisi nel 63 nel film Il sorpasso con Vittorio Gasman metteva a confronto due diverse visioni del diritto, una quella di Gasman che diceva il futuro è nel diritto dello spazio e quello più tradizionale di Trentignan che invece diceva studiava la procedura civile. Quindi è da tempo che il diritto dello spazio vive, opera eccetera e quindi era opportuno aprire questa finestra anche in Sapienza. Quanto è importante per uno studente interessato a questo settore sfruttare questa opportunità cioè partecipare a una manifestazione ricca di esperienze che non si limitano solamente all'ambiente universitario. Eh sì, direi che proprio questo è il valore aggiunto di una iniziativa come questa. Anzitutto non è troppo lunga, sono due settimane, sia pure di full immersion e in queste due settimane però assistiamo a un concentrato di possibili contatti, relazioni non solo con accademici ma anche con, come diceva lei, istituzioni che in Italia si occupano di spazio e non dimentichiamo che l'Italia è una potenza spaziale che se ne dica ed è il terzo finanziatore dell'Agenzia Spaziale Europea, investe molti soldi nelle attività spaziali quindi è importante che appaia anche a questo livello. C'è la possibilità di incontrare e vedere le istituzioni e i loro leader diciamo. Siamo andati all'Agenzia Spaziale Italiana incontrando il Presidente Battiston, siamo andati a Talessa, l'Enea Spazio, l'Aquila a vedere come si fabbricano certe componentistiche degli oggetti e dei satelliti, andremo a Telespazio la prossima settimana quindi c'è un feedback e una relazione con questo mondo che è un mondo conosciuto in genere solo attraverso gli astronauti che dallo spazio ci raccontano qualche cosa, la Cristoforetti, Nespoli eccetera, che sono importanti per dare visibilità ma non esauriscono diciamo tutto l'impegno del Paese in questo settore. per gli studenti quindi secondo me è importante avere un contatto con questo mondo e riuscire a vedere se ci sono delle possibili, se c'è interesse da parte loro, se c'è la possibilità poi di approfondire questo e di continuare quindi in un settore che indubbiamente è limitato, qualcuno dice un settore di nicchia, però è importante. A proposito di questo direi che si inserisce anche la questione del suo corso di Space Law la Sapienza è una diciamo un'eccezione, no? Avere un corso di Space Law la Sapienza quindi l'esperienza, se è vero che come dice lei si limita alle due settimane di Summer Course quindi un'esperienza non troppo lunga, in realtà il Dipartimento di Scienze Politiche ospita una realtà didattica ormai consolidata, cioè ogni anno decine di studenti vengono. Ci vuole dire qualcosa a proposito del suo corso? Grazie. Dunque, devo dire che il corso adesso si chiama, il denominato Space Law perché proprio per la tendenza all'internazionalizzazione il rettore spinge per attività didattiche in lingua inglese e la Space Law credo che sia una di quelle che meglio si presta all'uso della lingua inglese. però c'era una tradizione lunga qui nel Dipartimento che lei ha menzionato perché fin dall'inizio, da anni molto indietro, si insegnava il diritto aerospaziale poi per un certo periodo era stato messo in sonno e poi è tornato e indubbiamente credo che per gli studenti sia una possibilità in più per nuovamente affacciarsi in questo mondo, avere le basi fondamentali e vedere se poi sono interessati e vogliono continuare. Volevo chiederle invece che consiglio si sentirebbe, se vuole ovviamente, di dare a un ragazzo che o che deve approcciarsi per la prima volta a questa materia oppure a un ragazzo che già più o meno si sta muovendo ed ha delle aspirazioni professionali all'interno del settore del diritto delle attività spaziali. Come dicevo prima, il settore spaziale è un settore che offre possibilità importanti ma piuttosto limitate, però vi sono varie realtà lavorative che sono connesse a questo settore. Anzitutto vi sono tutte le industrie spaziali, i manufatturieri dello spazio che hanno degli uffici legali, uffici anche di politica, di relazione, di comunicazioni che ovviamente hanno bisogno di persone esperte che possono lavorare dentro. Poi ci sono le istituzioni, ho parlato dell'Agenzia Spaziale Italiana che recentemente ha fatto una serie di bandi di concorso non indifferenti, alcuni anche aperti a laureati in scienze politiche oltre che in diritto. Devo dire che non c'è stata una grande partecipazione, è una data addirittura deserto, quindi bisogna assolutamente che ci sia un maggiore impegno perché è un settore che offre parecchie possibilità in Italia, all'estero e poi ecco credo che l'esperienza di far parte di questa comunità di persone che si interessano dello spazio, del diritto e della politica spaziale è un'esperienza affascinante che fa vedere come e quali possibilità poi ci sono ripeto sia in Italia che all'estero. Certo il percorso non è facile, bisogna sempre approfondire con qualche elemento in più la preparazione accademica, quindi fare qualche stage, qualche corso di formazione, qualche master eccetera e quindi insomma cercare di con convinzione entrare nel settore. Poi non tutti possono trovare delle sistemazioni adeguate alle loro aspettative ma ve ne sono anche che lo fanno. Io trovo parecchi italiani dappertutto dove vado, dall'Unione Europea che ha un'ampia attività in materia di spazio sia nel settore commerciale, scientifico che in quello della sicurezza, a tante altre realtà insomma. Ecco quindi benvenga questo nuovo interesse, questo accresciuto interesse per il settore. Quindi diciamo un appello. Le faccio un'ultima domanda, forse un pochino più tecnica diciamo mi passi questo termine. È un anno in cui ricorre uno speciale anniversario per il diritto alle attività spaziali e lo ha ricordato anche nel suo discorso di apertura di questa Summer Course, è il cinquantenario dell'Host, è il primo diciamo trattato internazionale in materia che contiene i principi fondamentali in materia di attività spaziali. Vogliamo dire due parole a proposito di questo anniversario. Sì, le dico molto volentieri perché il 2017 è stato segnato da questo evento, cioè l'anniversario cinquantesimo dell'Outer Space Treaty, che è un po' la costituzione dello spazio, le regole fondamentali sono scritte là dentro. Fu scritto in epoca di guerra fredda, quindi in un momento in cui era facile, era difficile ma anche più facile raggiungere dei compromessi e trovare delle soluzioni di quanto non possa esserlo oggi. Nel 2017 si sono, diciamo così, proprio in relazione all'anniversario, manifestate alcune tendenze revisioniste del trattato, che sono state in parte accolte dalla nuova amministrazione americana, Trump, la quale ha portato il Senato degli Stati Uniti a discutere una possibile, in che modo questo trattato serve gli interessi commerciali nello spazio. Perché sapete che oggi il problema di fondo è quello degli interessi commerciali nello spazio, più che quelli degli interessi scientifici. Perché, insomma, si vede nella spesa economica una nuova frontiera. Però, ecco, io sono molto soddisfatto di dire che, nonostante le sue pecche, perché ne ha, il fatto di avere dei principi consolidati che sono specifici, senza, diciamo, contestazione importante, per la certezza delle attività spaziali pubbliche e private. E quindi sono contento di aver visto che la sessione Learing presso il Senato americano si è concluso con una, diciamo, decisione finale, nella quale hanno deciso di non aprire nessuna discussione sulla revisione del trattato, perché, tutto sommato, fissando dei principi, ma con una certa flessibilità, si può adattare alle varie esigenze delle nazioni spaziali. Io ringrazio di nuovo il professor Marchesio per la disponibilità e per l'intervista, per Radio Sapienza, Simone Di Gregorio.